Un'altra persona che ha scelto di fare la cosa giusta. Bene. Bam! I burattinai hanno le ore contate, capito? Fantastico! La rapitrice è in zona, ma l'attivista non c'è. Sarà in qualche posto segreto. Scansione il suo optic e cerca di risalire all'attivista. Il meeting di Nigel Cass inizierà presto. Raggiungi la torre di Londra appena puoi. Wella, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Watch Dogs Legion, qui sul mio canale. Era da un po' che non prendo il gioco e quindi farò un sacco di casini perché non ricordo assolutamente nulla. Questo deve essere ben chiaro. In particolare cerco di riprendere un pochino confidenza con i tasti. Avevamo reclutato questo membro dell'Albion per fare questa missione dentro Albion. Dovevamo infiltrarci in questa White Tower per indagare appunto sull'Albion e sul suo capo. Quindi, quindi, quindi. Allora, allora. Andiamo direttamente alla missione. Questa è la White Tower. Spostamento rapido. Ok. Da dove che si entrava in questo posto? C'eravamo stati l'altra volta ma non potevamo chiaramente entrare perché, insomma, era tutto chiuso. Proviamo ad andare da questo lato. Proviamo da quel lato, dai. Anche perché infiltrati vuol dire tutto e niente. Ok. Ok, noi adesso abbiamo un membro dell'Albion. Questo è il nostro attivista Okereke. Diciamo ogni tanto degli incontri casuali graditi. E abbiamo questo membro dell'Albion che ci dovrebbe effettivamente aiutare a entrare senza farci scoprire. Tra l'altro, non mi ricordo se è stata proprio l'ultima missione in cui abbiamo perso la nostra Janice, ovvero la nostra spia. fighissima che è deceduta in una situazione abbastanza tragica. Ok, da qua forse possiamo entrare. Se siamo fortunati, ancora nessuno sa che hai appeso gli stivali al chiodo. Cerca di avere un aspetto mite, innocuo, oppresso dal sistema. Oh, e non dimenticare l'uniforme. L'uniforme ce l'abbiamo. Quindi, prima di iniziare qua, avevamo perso nella nostra squadra Janice, che come vedete è deceduta. Purtroppo mi sono attivato per avere un'altra spia, che è questo, Devin, che ho reclutato, diciamo, offscreen, perché comunque sono missioni, quelle di reclutamento, abbastanza noiose, comunque ripetitive. Quindi adesso abbiamo di nuovo una spia, che secondo me sono, non so se solo per me, o diciamo è una cosa condivisa, sono i migliori profili che ci sono da reclutare nel gioco. Allora, vediamo da dove possiamo entrare. Accesso in uniforme. Alcuni attivisti hanno l'accesso in uniforme. Va bene, dobbiamo mettere la divisa. E le guardie potrebbero insospettirsi se compi azioni sospette. Evita di avvicinarti troppo alle guardie o di correre. Ok. Vabbè, non la divisa, già ce l'abbiamo. Ok, questa l'abbiamo disattivata. Vabbè, io non voglio avvicinarmi, però... Eh, cioè, come facciamo ad andare? Qua ci stanno guardi ovunque. Allora, ragazzi, io non mi ricordo i tasti. Non so come... come devo fare. Non mi ricordo i tasti. Cioè, questa cosa è tragica. La ci sta una guardia. Non so perché si è indicata in quel modo. Non riesco ad abbassarmi. Ok, questo lo potrei neutralizzare. Mentre sono in divisa forse non mi posso abbassare. là ci sta il... il drone. Là ci sta un'altra guardia. Ok, quindi com'è che dovrei fare? Scusatemi. Questo rimane fermo qui? Cioè, no. Hm. Va bene. No. Il drone, il drone. Eh, ho capito, ma... qui c'è qualcuno a terra. Facciamolo saltare fuori. Qui non c'è, proseguo. Aia. Drone, esegui ricerca. Stiamo all'erta. No. Mannaggia. Grrrr. Grazie a tutti. Appiro la ricerca. Segui il versetto. Vediamo se ce la facciamo. Qui è tutto a posto. Boh. Proprio deficienti totali sti nemici. Cioè, sono entrato davanti a loro. Incredibile. Ora che siamo dentro ti do un consiglio. Al minimo accenno di problemi Nigel Cass annullerà il meeting. Evita di farti scoprire dai tuoi ex colleghi o questa operazione sarà un fiasco. ho capito ma non mi posso abbassare cavolo come faccio a non farmi vedere se non mi posso abbassare. Nulla di interessante. Lo conosci piuttosto bene è curioso. Beh, anch'io ero un membro di Albion se non ci eri già arrivato. Io e Cass eravamo amici. Lo ammiravo. Era fuori di testa. Sul serio. Un vero genio. E io ero un nerd che lo adorava. Volevo essere come lui è per quello che mi sono unito ad Albion. ho scoperto solo dopo che era uno stronzo assassino. Mannaggia. Che ansia. Ok, ci sono. Cazzarola. Aspetta, non ho capito. Come devo fare ad entrare? come faccio ad utilizzare un computer? Ehm... Non ho capito. Vediamo se possiamo passare da qua. Ok. Vediamo. Si vediamo ma senza che mi fai scoprire. As-001 soggetto Cass Nigel Il signor Cass ha vissuto un evento molto traumatico quando ha assistito all'omicidio di suo padre Garrett Cass CEO di Albion. I suoi sintomi si sono manifestati per la prima volta dopo un evento che lui stesso ha definito casuale. I sintomi iniziali del signor Cass comprendevano insonnia, paranoia, sensi di colpa e flashback ricorrenti. Tuttavia sembra aver canalizzato la rabbia e l'impotenza che sente nel lavoro per assicurarsi che Albion diventi cito un meccanismo per evitare la violenza imprevedibile. Sembrerebbe decisamente una mania al limite della psicosi. Ho qualche preoccupazione sull'idoneità del signor Cass a guidare una multinazionale della sicurezza ma al momento non posso consigliare altro se non l'osservazione specialmente considerando che mi è stato chiesto di chiudere questa pratica. Cazzo mi fa quasi pena anzi no che pezzo di merda incredibile che abbiano affidato a lui la sicurezza di Londra già beh Nigel non si fidava di nessuno se non di suo padre e di me immagino non ha mai avuto molta fiducia nella gente bene il passo è pronto anche se è grezzo se questa cosa della resistenza non va a buon fine non camperai falsificando documenti a ogni modo proviamoci Cass ci aspetta ok allora facciamo andare via un secondo questa guardia così noi possiamo passare forse tranquilli e entriamo qua cazzarola non l'avevo visto questo non posso distrarlo ce l'abbiamo fatta? vi presento il progetto Temis i nostri nuovi droni autonomi questi droni potranno identificare isolare e terminare le minacce ancora prima che possano fare danni possono andare ovunque vedono ogni cosa possono uccidere un uomo in un vicolo o in una folla numerosa con precisione assoluta i droni Temis fanno ciò che gli umani non sono mai riusciti a fare agiscono e senza alcuna esitazione senza il vostro supporto non avrei potuto essere qui a dirvi anzi a promettervi che con il lancio del progetto Temis Londra sarà la prima città al mondo completamente sicura signor Cass spero che ci abbia riuniti qui oggi anche per discutere di tutte le problematiche etiche no va tutto bene al commissario importa e anche a noi ammiro la sua passione la sua dedizione parliamone bene per qualcuno Temis va ben oltre il mandato di Albion dovremmo davvero discuterne un po' di più con il governo capisco posticipare il lancio per discutere e decidere diciamo i dettagli dobbiamo considerare l'elemento umano posso avere in linea il ministro della difesa anche subito beh se proprio deve è l'elemento umano che ci ha portato a questo punto basta dibattiti ritardi o indecisioni che sia chiaro non permetterò a nessuno neanche a me stesso di ostacolare Temis ora i nostri amici di Tydis saranno pronti dopo tutto siete uno dei capisaldi del progetto avete bisogno di consultarvi con qualcuno per caso no saremo pronti è appena in tempo i criminali spadroneggiano nelle strade gli irregolari minacciano le nostre famiglie il commissario della polizia in persona è stato assassinato dai terroristi essere risoluti è difficile ma la cosa bella è che una volta presa la decisione voi non dovrete fare nient'altro attenzione è in corso un controllo di sicurezza a tappeto a causa di una fuca di documenti sul pass ti avevo avvertito l'uniforme ti sarà d'aiuto non lasciare che ti guardino da vicino è una parola e dove stanno ste catacombe eh ma ci sta gente ci sta io non posso manco abbassarmi sta cosa è fuori di testa cioè il fatto che non posso abbassarmi è una cosa fuori di testa questo solo perché ho la divisa devo scendere ancora cioè proprio qua sta avvenendo questo ma non ci posso credere che viene proprio qua andiamo via andiamo via cazzo 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 non mi ricordo i tasti ok dai meno male che stava da solo questo dobbiamo cazzo non l'avevo mica visto questo non l'avevo mica visto questo no cazzo devo andarmene devo andarmene cazzo sono troppi sono troppi oh e che ok dai una è andata l'altra senza che ci facciamo scoprire dai cazzo prendila no mortacci dico io c'è sta un'altra niente dobbiamo fare fuori tutta la tutta la cazzo di no 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 quella ma che cazzo niente ora spariamo basta hanno rotto il cazzo hanno rotto il cazzo basta eh anche perché non so dove dove caspita si scenda per ste caspita di di catacombe ok sono morti tutti eh che cavolo ancora più sotto dobbiamo scendere ancora più sotto dobbiamo scendere via via abbiamo ucciso tutti abbiamo fatto bene così è più semplice ma qua è dove eravamo all'inizio nella primissima missione all'inizio del gioco può essere catacombe catacombe vabbè non sono in vena di leggere tutto come faccio a scendere senza morire scusatemi no non è che mi fanno morire in questo modo idiota vero ah ok chissà chi c'è qua sotto cazzo ma è un labirinto nooo ragazzi no qua c'è un labirinto del cavolo ma che cazzo porca vacca sembra un horror questo cos'è sordi sono rumori super inquietanti non mi piace neanche per un cazzo sono d'accordo possiamo scendere o moriamo sicuramente è molto d'atmosfera questa zona però cioè mi sto cagando addosso giù dal tamigi attraverso il traitor's gate buttati buttati ce l'abbiamo fatta? è una macchina assassina automatizzata e pare che cas sia quasi pronto al lancio dobbiamo togliergli temis dalle mani me ne occupo io emis sarai dei nostri? amico io non corro rischi ricordi ma tienimi aggiornato io e te abbiamo un piano da preparare bugly vabbè vabbè ha scoperto ha scoperto che sta lanciando un nuovo progetto il progetto temis un'iniziativa di sorveglianza automatizzata hanno anche visto niger cas uccidere a sangue freddo il commissario di polizia potremmo andare intanto al rifugio e fare il nostro meeting e poi vediamo c'erano come missioni anche oltre a quelle degli assassini anche le richieste dei nostri amici soprattutto queste due una di kathleen e una di not però andiamo al briefing intanto il briefing avrà inizio quando sei pronto ci sono ci sono intanto ci sono altre missioni secondarie da da ricevere intanto noi le prendiamo vediamo che ci dicono ehi roba grossa non pensavo che avessimo questa visibilità che vuoi dire è storm si cazzo hai presente vossibop shut up glastonbury ci ha mandato un messaggio e chiede espressamente del delzac è una grande occasione abbiamo un contratto di altissimo profilo cazzo si ti giro il messaggio e per l'amor del cielo non mandate tutto a puttana ok quindi ci hanno dato un'altra missione secondaria prendiamo anche questa non le faremo mai queste missioni secondarie ne sono sicuro pronti per del lavoro da sbirri ho recuperato un laptop del clan kelly è pieno di dati sui loro conti delle somme importanti sono state trasferite su un conto estraneo rubare ai kelly perché non ci abbiamo pensato prima ok scopriamo che hai in mente questo ladro forse hai ragione credo che bugly abbia una pista buona fortuna certo non capisco questa cosa di darci le missioni secondarie non capisco perché darci missioni secondarie anche quando non abbiamo fatto le missioni precedenti cioè così ci riempiono qua c'è il nostro Will grandissimo Will è che quelle persone le loro menti sono ancora nel laboratorio i loro cervelli estratti dai corpi usati in esperimenti da incubo non possono più dormire mangiare cagare o morire eternamente vivi senza vita non ci avevo pensato hai ragione è atroce se mi trovi su un hard disk cancellami all'istante te ne prego ma come Will tu sei la la rivoluzione altro computer connesso alla stessa rete si trova l'old canal warehouse non ho capito salva la contabile prigioniera che sono altre missioni queste che ci stanno dando stanno riempiendo di missioni tutto ok stavo leggendo il necrologio di sky non pensavo che mi avrebbe fatto sorridere non esagerare una donna è morta londra è stata devastata da mostri come lei sono felice che sia morta scusa tanto se non ho tutta questa voglia di fare festa dopo aver ammazzato qualcuno senti non ho paura di guardarmi il buco del culo allo specchio di certo non ho paura di ammettere quello che fa il death sack ok fa come vuoi questa non l'avevo mai sentita questa del del bucio non la conoscevo allora prima di fare il si vabbè sbaglio sempre tasto allora prima di fare questo meeting vi faccio vedere innanzitutto la spia che ho reclutato al volo che è lui fighissimo lo chiameremmo Mastro Lindo forse già ve l'avevo fatta vedere qua ancora abbiamo pochi punti no vabbè 80 punti non sono pochi però magari li sbrocchiamo la prossima volta ora facciamo il meeting e qua che missioni ci ha dato questa era una che era stata rapita una delle nostre amiche che era stata rapita qua abbiamo le richieste di Catherine le richieste di Nott le richieste di Bagley vabbè sono queste degli assassini Catherine Nott niente ci stanno riempiendo totalmente da di di missioni che non faremo probabilmente mai che non sono fatto per le missioni secondarie vediamo il briefing e poi ci lasciamo ecco cosa sappiamo di Nigel Cass sta lavorando a un progetto chiamato Temis la carenza di informazioni è preoccupante di suo e da quel poco che sappiamo Cass vuole rimuovere l'elemento umano dalle forze dell'ordine sappiamo anche che collabora con Tidys che è sempre un male Tidys fa altri lavori per Albion roba brutta come armi automatiche algoritmi di puntamento umano quindi Tidys è il modo migliore per scoprire i misteri del progetto ma la loro sicurezza è notoriamente impenetrabile quindi Emish ha proposto una soluzione intrigante Albion sta lavorando a un nuovo minidrone quello di cui parlava il mio contatto non è ancora in produzione ma se ottenessimo i progetti potremmo costruirlo anche noi per aggirare la sicurezza di Tidys esatto esatto sono piccolissimi dovrebbero fare manutenzione agli altri droni Albion ma essendo piccoli possono infilarsi dove nessuno può ok ci siamo il prossimo passo è infiltrarsi nel laboratorio di produzione dei droni Albion e ottenere i progetti e poi avrete un bel giocattolino per entrare a casa Tidys mi piace vi mando le coordinate fate attenzione Albion è gelosa dei suoi giocattoli ok vediamo che ci dicono ruba i progetti del minidrone questi progetti del minidrone questo chi è da reclutare una rivoluzionaria va bene questi progetti del minidrone li dobbiamo rubare qua dove non abbiamo tra l'altro diciamo nessun viaggio rapido va bene ragazzi allora qua dai nostri qua c'è il nostro mitico dominatore Sadomaso proprio lui Noel Gallagher lo chiameremo Noel Gallagher okereke quindi dai nostri dalla nostra dal nostro team affiatato e variegato io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi invito a lasciare un like a commentare per farmi sapere cosa ne pensate ad iscrivervi al canale e ad iscrivervi anche al mio canale sull'altra piattaforma trovate tutti i link in descrizione vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video un saluto a tutti ragazzi ciao ciao